Un confronto con l'azienda è stato un incontro riservato tra il Vice Ministro allo Sviluppo Economico Stefano Bufagni e la Leonardo Di Gruttaglie dopo la preoccupazione espressa dei lavoratori per il calo di produzione anche a causa della pandemia e da sempre in monocommittenza. Noi come Ministero ovviamente siamo venuti per confrontarci con l'azienda, chiaramente la curva dell'andamento del mercato aereo impatta sull'azienda e si sta comprendendo come riuscire a aumentare comunque la produzione di altre linee per sopperire a questo problema soprattutto nel 2021. Il governo c'è, l'azienda è consapevole dell'attenzione che abbiamo su questo territorio perché è un territorio di eccellenza, ho visto delle competenze pazzesche. Un territorio di eccellenza con grandi competenze che va difeso, così oltre ai vertici il Vice Ministro Buffagni a margine ha ascoltato anche i giovani responsabili, coloro che lavorano quotidianamente. C'erano diversi responsabili di produzione giovani con i quali ho avuto piacere anche di parlare a Latere e che amano questa terra e stanno chiedendo appunto di continuare questo percorso insieme. È chiaro che il Covid avrà impatto su tutte le filiere, non solo quella ma anche su tanti altri settori, quindi dobbiamo affrontarla come Paese senza contrapposizione o senza speculazioni politiche.